bentornati ragazzi sul mio canale oggi andremo a rispondere a una domanda batterie al litio quali sono le migliori le ioni di litio l'elifepo 4 ovvero litio ferrofosfato o l'elitanato di litio andremo a rispondere a questa domanda perché stanno diventando oramai le batterie più usate le batterie più potenti i prezzi sono scesi e dentro queste batterie c'è tanta tanta energia parleremo quindi di batterie per gli usi che ognuno vorrà fare quindi dal fotovoltaico ai droni quello che potrà essere anche le barche caravan i camper ovvero batterie stazionarie batterie che servono anche per muovere i veicoli alcuni sono più leggere alcuni sono insomma hanno tante tante caratteristiche diverse ovviamente le batterie al litio sono fatte con tanti materiali ci sono quindi ne rappresento solo tre ovvero gli oli di litio litio ferrofosfato e le titanato di litio ma ci sono tante altre tipologie queste sono le più comuni e hanno caratteristiche molto differenti le une dalle altre vedremo insieme di cosa stiamo parlando ricordatevi che le batterie al litio sono potentissime dentro qui questa è una 26 650 ricordatevi che nel caso comprate queste pseudo stilo grosse i primi due numeri sono il diametro e gli altri tre numeri sono la lunghezza le più usate sono le 18 650 quindi più strette di queste queste sono le 26 650 dentro queste batterie ragazzi c'è tanta tanta potenza questi particolari sono le ioni di litio quindi se dovessimo andare a creare un cortocircuito con queste o forarle o danneggiarle avremmo fiamme fume scintille o esplosioni veramente però dieci minuti un quarto d'ora quindi mi raccomando fate attenzione come al solito dico sempre si parla di corrente se non siete capaci lasciate perdere o valetevi di esperti grazie e buona visione apriamo quindi la prima scheda tecnica e vediamo subito le tre tipologie di batterie che andremo a considerare in questo video abbiamo già detto che in realtà le batterie al litio gli accumulatori al litio ve ne sono di tantissime tipologie ma queste sono le più usate sono completamente diverse l'una dall'altra ed è per quello che copriranno un'ampia gamma di utilizzo partiamo dalla prima caratteristica quella della potenza ovvero della densità ovvero dei watt per chilogrammo le ioni di litio sono le più potenti significa che a parità di peso avrò molta più energia al loro interno rispetto alle lifepo 4 e alle lto cosa significa questo se devo costruire una batteria per un drone per qualcosa di leggero un elicottero radiocomandato userò sicuramente le ioni di litio perché sono molto più potenti delle altre due ovvero avrò una batteria più leggera e avrò più potenza quindi più durata e più velocità nel caso del dei droni parlando della potenza delle lifepo 4 ovvero litio ferro fosfato abbiamo una forte potenza sono batterie potenti sono sempre al litio ma non come le ioni di litio ecco che quindi avremo una dimensione maggiore del pacco batterie ed è per quello che e non solo per quello vengono usate primariamente per gli impianti fotovoltaici per tutto ciò che può essere anche la forza motrice senza pretese perché ricordiamo che invece le lyon vengono usate anche per le auto sono in realtà le lyon più potenti più prestazionali quindi è per quello che là dove c'è bisogno leggerezza vengono usate queste invece sul fotovoltaico per una serie di motivi che andremo a vedere si preferisce le lifepo 4 riconosciamo subito la potenza anche dal voltaggio nominale ovvero le ioni di litio sono come cella 3,7 volt nominali le litio ferro fosfato sono 3,2 volt e le titanato di litio sono 2,3 volt per intenderci le piombo sono 2 volt ora questo fa capire che una cella già ha in maniera intrinseca una tensione superiore e quindi una potenza e soprattutto questo poi influirà anche come dicevamo il rapporto nel peso questa tensione ovvero la tensione nominale è la tensione a riposo ovvero quando la batteria non è utilizzata e carica ma è a riposo ha in sé una tensione di 3,7 volt quindi possiamo definirla la tensione non minima e massima perché invece la tensione minima e massima è un'altra cosa completamente diversa che andremo a vedere nella prossima scheda in questa scheda appunto consideriamo le tensioni ovvero come vedete quale l'ion che hanno un voltaggio nominale una tensione nominale di 3,7 se andiamo a formare un pacco batterie di 4 batterie in serie avremo una tensione nominale di 14,8 se facciamo la stessa cosa con l'elifepo 4 avremo una tensione nominale di 12,8 e se lo facciamo con l'elitio titanato non possiamo farlo con 4 perché avremo una tensione troppo bassa per un impianto a 12 volt ecco che allora ne serviranno 6 e avremo una tensione di 13,8 qui avete già capito come la densità è molto importante per andare a scegliere come combinare le batterie in serie o in parallelo in questo modo in teoria noi dovremmo utilizzare tre batterie agli ioni di litio per arrivare a un voltaggio similare alle 12 volt perché perché questo è un voltaggio nominale ma adesso andremo a vedere i voltaggi minimi e i voltaggi massimi e questo influenzerà grandemente il pacco batterie che andremo a formare rispondiamo e facciamo un riassunto delle domande che abbiamo già analizzato gli ioni di litio le ion sono le più potenti hanno una densità maggiore ma hanno più pericolosità perché sono infiammabili sono esplosive le lifepo 4 hanno meno densità ma sono ugualmente potenti e sono le più sicure ora le titanato di litio questa via di mezzo che non bruciano non scoppiano questo è un lato positivo non prendono fuoco ma non hanno la stessa potenza delle lifepo 4 e degli ioni di litio quindi qual è il loro miglior utilizzo e lo vediamo adesso in maniera chiara le titanato di litio sono le uniche che possono essere usate fino a 30 gradi sotto zero se noi carichiamo le ioni di litio o le litio ferrofosfato quando la temperatura è a zero gradi due gradi tre gradi queste si rovineranno in maniera irreparabile ecco un parametro incredibile per le titanato di litio le possiamo utilizzare a temperature sotto zero non influirà su nulla e lo stesso sull'alta temperatura fino a 40 gradi 50 gradi mentre le ioni di litio sono già pericolosissime a quella temperatura quindi la caratteristica fondamentale delle titanato di litio è esattamente la possibilità di essere usate in condizioni di freddo le altre due assolutamente no ma non finisce qui c'è un'altra caratteristica incredibile delle titanato di litio i cicli di carica ragazzi mentre gli ioni di litio e le litio ferrofosfato usate ovvero scaricate fino al 20 per cento e ricaricate fino all'80 85 per cento possono essere usate per 10 15 anni anche vent'anni le titanato di litio scaricate anch'esse fino al 20 per cento e ricaricate anche fino al 90 per cento possono durare 30 40 50 mila cicli ovvero le lasceremo ai nostri nipoti quindi questa caratteristica dell'alto numero di cicli di carica e scarica delle titanato di litio è una componente fondamentale una componente veramente che annulla ogni discorso che facevamo con le piombo sulla durata dura 300 cicli 500 cicli le mie sono buonissime durano mille qua parliamo di 30 40 mila cicli cioè un'eternità ora un altro aspetto veramente importante la carica quanto veloce deve essere vi ricordate quando parlavamo di piombo deve essere al 10 20 per cento massimo quindi una batteria da mille ampere poteva essere caricata al massimo con 100 ampere 150 ampere 200 ampere con gli ioni di litio la situazione è completamente diversa possiamo caricare ioni di litio con la stessa capacità della batteria anche l'elifepo 4 ma ragazzi con le titanato di litio possiamo caricarle anche con energie superiori alla capacità e di molto ecco perché le titanato di litio sono usate oggi in giappone per i tram i tram elettrici a una da una stazione all'altra usano le batterie e quando arrivano alla stazione successiva mentre i passeggeri salgono vengono buttate all'interno di queste batterie potentissime correnti che in pochissimi secondi vanno a ricaricare anche più di quello che è stato scaricato durante il piccolo tragitto quindi le titanato di litio hanno quest'altra caratteristica superiore alle altre due cioè la capacità di assorbire corrente senza danneggiarsi in maniera veramente esagerata ora facciamo una sintesi significativa di quanto abbiamo detto fino adesso ioni di litio bruciano scoppiano le altre due no ioni di litio sono le più potenti quindi per cose leggere e macchine o aerei elicotteri van benissimo le altre due meno titanato di litio sotto zero sono le uniche che possono essere usate per questo e anche per le alte temperature e hanno cicli di carica potentissimi ora se hanno questi cicli di carica potentissime possiamo ipotizzare che se mettiamo 100 pannelli fotovoltaici carichiamo subito le litio anche se nuvoloso esce mezz'ora di sole abbiamo già buttato dentro un'enormità di corrente quindi per l'off grid sono eccezionali punti negativi costo alto delle titanato di litio costo medio sulle ioni di litio costo inferiore sulle ferrofosfato quindi se abbiamo un budget prestabilito le titanato di litio per creare grandi pacchi batterie non vanno bene queste sono le caratteristiche fondamentali studiamo qual è la serie migliore per metterle a punto per costruire un pacco batterie e queste sono le informazioni che ho acquisito in questi anni di test anche questo video è giunto al termine spero sia stato interessante spero sia stato utile mi raccomando se è vostro piacere iscrivetevi al canale e al prossimo video